Visita a sorpresa della cancelliera tedesca Angela Merkel agli scavi di Pompei. La Merkel, entrata nel sito dall'ingresso di Porta Marina, è in campagna per un soggiorno privato che la porterà a trascorrere con il marito Joachim Sauer alcuni giorni di vacanza sull'isola d'Ischia, sua tradizionale destinazione. La cancelliera in particolare soggiornerà nel borgo di Sant'Angelo, nel comune di Serrara Fontana. La Merkel, entrata negli scavi, dopo essersi recata personalmente a pagare il biglietto d'ingresso per lei e le persone, tra cui alcuni uomini della scorta, che l'accompagnavano. La cancelliera, con addosso un giubbotto chiaro, ha poi iniziato il suo turno con una mappa in mano per districarsi tra le varie insule della città antica. La Merkel ha lasciato gli scavi dopo tre ore e mezza di visita, una vera e propria full immersion, superiore ai tempi soliti utilizzati per il tradizionale giro turistico della città antica. Ad accompagnarla c'era anche un archeologo tedesco. All'uscita dagli scavi, a Porta Marina, ha ricambiato il saluto di un gruppo di persone che l'hanno riconosciuta, poi è salita in auto. A seguire visita all'acropoli di Pozzuoli. Il cancelliere ha visitato il sito monumentale del comune Flegreo, insediamento greco, dove si trova la cattedrale chiusa dal 1970 in seguito al bradisismo.